A Monopoli invece polemica su un centro di raccolta rifiuti che il Comune intende realizzare nelle campagne a metà strada con Alberobello. Per il Comitato è un progetto che danneggerà la vegetazione e la fauna della zona. Per l'amministrazione è invece un impianto a basso impatto ambientale che sarà al servizio di tutte le contrade. A Monopoli fa discutere il centro di raccolta rifiuti che il Comune intende realizzare in questo terreno, tra le contrade e la Macrasciola, Rizzitello e la Mammolilla, una struttura analoga a quella realizzata su Viale Aldomoro che stiamo vedendo nelle immagini. Il Comitato non è contrario all'impianto ma contesta la localizzazione. Ha fatto realizzare uno studio sull'ecosistema dal quale è emerso che l'aria è talmente importante da poter essere inserita nella vicina zona speciale di conservazione Murgia dei Trulli. Noi non capiamo perché è stato scelto questo sito che è pieno di vincoli naturalistici e paesaggistici per realizzare un progetto che in realtà potrebbe essere realizzato nelle aree già più antropizzate del territorio. Il sindaco Angelo Annese però precisa che la scelta del sito non è definitiva, che si stanno valutando altre soluzioni e che qualunque decisione assumerà l'amministrazione l'attenzione alle problematiche ambientali sarà massima. Per noi resta quello più idoneo perché è baricentrico a tutte le contrade. Fare questo tipo di centri serve proprio a tutelare l'ambiente, quindi non dobbiamo avere paura. Il sottoscritto, la mia amministrazione, è aperta a qualsiasi suggerimento perché, ripeto, siamo in fase decisionale ma c'è ancora margine di trattativa.